Ciao a tutti e oggi vi racconto questa simpatica storia di Rocco il Gatto però dovete aiutare anche voi perché parlavamo prima di lingue in questo libro c'è una canzoncina in inglese ascoltiamo allora il libro si chiama Rocco il Gatto e i suoi quattro super bottoni Rocco il Gatto indossa la sua camicia preferita con quattro super bottoni rotondi e colorati quanto gli piacciono, gli piacciono così tanto che canta questa canzone un bottone si è staccato e sta rotolando via guarda quanti bottoni rimangono? tre tre quattro meno un bottone tre bottoni e Rocco cosa fa? si mette a piangere? si mette a piangere? ma certo che no quattro bottoni avevo e tre bottoni avrò e continua a cantare la sua canzone my buttons my buttons my buttons my three grovi buttons my buttons my buttons my three grovi buttons bottoms bottoni bottoni tre tre oh no un altro bottone si è staccato un altro bottone si è staccato e sta rotolando via e quanti bottoni rimangono? due due tre meno uno due e Rocco cosa fa? si mette a piangere? no ma certo che no tre bottoni avevo e due bottoni avrò e continua a cantare la sua canzone my buttons my buttons my two grovi buttons my buttons my buttons my two grovi buttons oh no un altro bottone si è staccato e sta rotolando via ma quanti bottoni rimangono? uno solo uno solo e Rocco cosa fa? si mette a piangere? no certo che no due bottoni avevo e adesso un bottone avrò e sapete cosa fa? continua a cantare la sua canzone my button my button my one grovi button my button my button my one grovi button l'ultimo bottone si è staccato si sta rotolando via e quanti bottoni rimangono? nessuno zero zero e Rocco cosa fa? si mette a piangere? certo che no un bottone avevo e nessun bottone avrò Rocco guarda la sua camicia senza più bottoni e sapete cosa vede? cosa vede? il bottone della sua pancia qual è il bottone della vostra pancia? è il don velico e continua a cantare la sua canzone tutto bene c'è Rocco my button my button still have my belly button my button my button still have my belly button il belly button è il rombolico questa storia ci racconta che a volte abbiamo delle cose e altre volte no allora cosa facciamo? ci mettiamo a piangere ma certo che no continuiamo a cantare la nostra canzone nessun bottone avevo e invece uno ce l'ho